Allora, questa collana della De Agostini si chiamano documenti d'arte. Sono così a occhi e croce non mi saprei dire, dieci, dodici volumetti. Questo ha Freschi dei Tiepolo nel Veneto, di Carlo Sgorlò. Una collana registrata presso il Tribunale di Novara nel 1980. L'Istituto Geografico di Agostini, 1982. Le foto sono di Alfredo Dagliorti. Visionari e realisti senza riposo. Senza posa. La Venezia, in cui nacque e si formò Giambattista Tiepolo, era uno stato ormai bloccato nel suo sviluppo politico ed economico. Per opera dei turchi, conquistatori di Candia, aveva perduto il dominio dei mari. L'impero asburgico le impediva i movimenti nella terraferma. Sulla terraferma ed era perlopiù esclusa anche dall'intrigo e dal gioco delle alleanze politiche che andavano tessendo le guerre di successione. Che forse si dicesse eccessione. Anziché la ricina dei mari di secoli lontani, Venezia era ormai uno stato che si barcamennava con fatica e che doveva piegarsi, per esempio, al trattato di Passarowicz. Passarowicz, scusate, il quale sanciva la perdita della morea. Anche l'attività mercantile. Chi aveva prodotto le opulenze di Venezia era ormai entrato in una fase senile. I rapidi guadagni di un tempo, quando la città era l'emporio europeo delle spezie, erano ormai un ricordo lontano. Ma aveva da parte delle grandi famiglie una sorta di miopia e di rifiuto a riconoscere la situazione reale. Ogni palazzo del canal grande, ogni villa nei luoghi stupendi della campagna veneta, erano una piccola corte dove si conduceva una vita gaia, festosa, fatua, galante, fuori del tempo. E si attendeva verso la festa, la carnevalata, il gioco amoroso, le convenzioni aradiche, arcadiche, scusate, le ghiettezze del teatro. Non per niente vi ricordiamo che il carnevale è stato inventato proprio a Venezia, se non sbaglio. Perduto il contatto con la vita vera, la società patrizia in piena decadenza era nostalgica dell'antico e si smariva a inseguire illusioni dentro le forme di una vita fittizia. Fittizia, usata dentro le forme di una vita fittizia, trasformata in apparenza, miraggio, recita teatrale. L'ora che si ritrovava nel teatro eroico e grecizzante, di apposto allo zeno e nel melodramma del metastasio. Ma a Venezia andava prosperando anche uno spirito borghese, realistico, osservatore, a volte umoristico o addirittura amaro, che si incarnava in scrittori e artisti come il Goldoni, il Baretti, Cannelletto, Bellotto, Longhi. È interessante notare come i due versanti della mentalità e della cultura veneziane si mescolassero, si intesecassero, in certo modo si contemplassero e illuminassero la vicenda. A volte convivevano nei medesimi personaggi, come ad esempio nei frattali Gozzi, nobili e passatisti, per un verso, ed espiritualista e ricco di buon senso dall'altro. A volte si riflettevano in una stessa famiglia di artisti, come nei Tiepolo. Se infatti il padre, Gian Battista, possedeva il gusto teatrale della missa in scena grandiosa, dell'eroico e del sublime, suo figlio Gian Domenico, pittore di maschere e di disperati pulcinella, era un osservatore disincantato e grottesco della realtà. Quasi tutta la vita di Gian Battista Tiepolo si collocò sotto l'insegne della fortuna e della prosperità. Il vento del successo e dell'opulenza gonfiò costantemente alla vela della sua attività, che non conobbe quasi mai restanti, battuta da arrasto, decadenza. Ma abbastanza fortunato fu persino la sua famiglia, che abitava in una casetta alla corte di San Pietro di Castello, successivamente demolita. Il Tiepolo vi nacque, probabilmente il 5 marzo del 1696. Dopo altri cinque frattagli, il padre Domenico era mercante e comproprietario di navi mercantili. Certo, doveva essere in buone relazioni con il patriziato Veneto, se i padrini dei suoi figli furono dei donna e dei mocenigo. Edi morì precocemente, ma lasciando la vedova a Orsola, ben provvista di beni di fortuna, non ci fu la miseria nell'infanzia del Tiepolo. Ne ritroviamo la riprova nel fatto che nella sua pittura non compaiono quasi mai gli aspetti squali decenciosi del bisogno. È innessa persino i bravacci, i carnefici e i manigoldi. Paiono appartenere sempre alla classe dei patrizi. Da bambino il Tiepolo probabilmente frequentò casi di rango, dove tra scaloni, salotti e boudoir vivevano belle donne e raffinate, patterizzate dagli abiti eleganti e la parrucca incipriata e pagi ben pasciuti che indossavano colorite livree. Fu messo a bottega per il pittore Gregorio Lazzarini, artista di livello modasto, autore di tele manieristiche, dai colori tenui e dai movimenti musicali. È pertanto gradito alle classi dominanti, ma il giovane Tiepolo scelsi i suoi veri master da un'altra parte, nel Benkovic, nel Piazzetta. L'uno e l'altro erano legati alla pittura tenebrosa, tormentata, realistica e plebea del Seicento. Avevano maniere vigorose, violente, estrose. Il Piazzetta, in particolare, era legato alla scuola bolognese, allora molto innauce, e in particolare nel Guercino. Usate in particolare al Guercino e al Crespi. Il suo modo di dipingere a plastico e chiaroscurale e il suo impasto scorrevole e sciolto superavano di molto la macchinosità complessa e barocca dei mediocri veneziani del Seicento. Il Benkovic e il Piazzetta, però, non sedussero per molto tempo il genio esplosivo di Gian Battista. Egli, anzi, abbastanza presto, maturando la propria cifra personale, mostrò di aver seguito il loro tenebrismo per una sorta di errore felice. Se lo fece, scusate, fu probabilmente effetto dal suo buon gusto pittorico, perché i due rappresentavano in quel momento quanto di meglio offrisse la cultura figurativa veneziana. A vent'anni il tiepolo di Pinsa è un sacrificio di Isacco, Venezia, chiesa dell'ospedaletto, e un martire di San Bartolomeo, Venezia, chiesa di San Stare. Opere più che dignitose, di un luminismo plastico, quasi espressionistico, drammatiche e crudeli, in cui arrivava per tramite i complessi l'influsso finale della rivoluzione del Caravaggio. Erano gli ultimi fuochi della gran pittura realistica del Seicento, che il tipo lo faceva suoi prima che cominciasse la sua grande stagione di pittore luminoso, decoratore e celebrativo. Ciò che Giova forse sottolineare di queste opere giovanili è il disporsi delle figure secondo modi obliqui, tortuosi, segmentati, seguendo le direzioni spaziali più varie, che sfondano i piani della tela in tutti i modi possibili. Si tratta vedremo di una costante del pittore. La maturazione del tiepolo comportò progressivamente, un cromatismo più chiaro e sereno. Ma soprattutto lui ha personificato la grande svolta pittorica del Settecento, che consistente nell'abbandonare le cupenze contro riformistiche del secolo precedente, cariche di complessi religiosi e di sentimenti di colpa, e nel conquistare una tavolozza più ariosa e più fresca. Con lui la pittura abbandonava le tenebre della notte. percorsi da sospetti di violenza e di misfatti, percorrero verso i cieli tarsi e le nuvole di parla. Si liberava dalle ossessioni tenebrose dei caravaceschi e dal realismo accademico del Settecento veneziano. Per avvicinarsi a una luminosità nitida e solare, faceva proprio la gallezza chiara di una tavolozza briosa e trasparente. L'ultimo maggio al piazzetto sembra essere la Madonna del Carmelo, Milano, Brera, in cui i modi del nastro sono visibili soprattutto nelle figure. Ma il pennello di Tiepolo cominciava a rivelare la velocità di esecuzione, la leggerezza rapida e scenografica dalla sua graffia e del suo tocco, che saranno poi una delle caratteristiche del suo stile. Esse rivengono dall'impettosità del temperamento, dall'ansia di fare in fretta, di realizzare lo sterminato mondo di immagini che urge nella sua fantasia. Per avvicinarsi a rivelare lo sterminato mondo di immagini che urge nella sua graffia.